Riaprire le scuole dopo la pausa di Pasqua, almeno fino alla prima media ed anche nelle regioni rosse, è l'auspicio ma anche l'obiettivo del governo Draghi. Ieri il presidente del consiglio lo ha ribadito in conferenza stampa, fissando nella riapertura graduale delle scuole la priorità. Riaprire tutto ovviamente nei limiti del possibile cominciando dalle scuole. Questa è la linea di Draghi che ha fatto capire che sarà il governo a dettare le linee guida senza lasciare campo libero e margini di azione alle regioni. Una presa di posizione che stride con quanto finora fatto dal presidente della campagna, Vincenzo De Luca, che si è sempre battuto per tenere chiuse le scuole, almeno fin quando non si fosse proceduto alla vaccinazione di massa del personale scolastico. Dopo Pasqua dunque scuole riaperte anche nelle zone rosse e lezioni in presenza fino alla prima media. Draghi ha anche affrontato il tema vaccini, stoppando le fughe in avanti di quei presidenti di regione che si stanno muovendo autonomamente. Lo Sputnik, il vaccino russo, non potrà essere distribuito in Italia prima nell'approvazione dell'EMA che non avverrà prima di 3-4 mesi. Lo Sputnik è il vaccino che De Luca ha annunciato di aver acquistato. Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative, di confronto, abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. È un vaccino che non è compreso fra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia. Quindi è un vaccino aggiuntivo che abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4 milioni e mezzo di nostri concittadini con la doppia dose. Ovviamente è bene fare un chiarimento. Il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'EMA o dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Ci stiamo muovendo un po' sulla linea indicata anche da Draghi. Se non abbiamo le risposte che ci servono da parte dell'Unione Europea e da parte delle aziende attualmente contrattualizzate, contrattualizzate è chiaro che andremo avanti anche da soli per la parte aggiuntiva che possiamo ottenere. Quindi stiamo parlando di un vaccino che è esterno ai vaccini contrattualizzati dall'Unione Europea, quindi un vaccino aggiuntivo. Riteniamo che questa scelta che abbiamo fatto e questo contratto stipulato possa aprire una strada per l'Italia. Può essere un esperimento al servizio dell'Italia se la cosa va bene. Per quello che ci riguarda ovviamente, siccome investiamo risorse della Regione per avere un vaccino aggiuntivo, una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini, metteremo a disposizione di tutti i nostri concittadini del nostro Paese la quantità di vaccini che dovessimo ricevere dalla casa produttrice dello Sputnik.